Ciao a tutti, iniziamo oggi una serie di video che approfondiranno il tema della psicopatologia postmoderna, argomento di cui ci siamo occupati in maniera piuttosto approfondita negli ultimi 25 anni. Anzi, pare che siamo stati i primi in ambito psichiatrico a utilizzare questa definizione in Italia. Iniziamo un po' dalla fine, cioè dall'omega, cioè dal senso della morte nella civiltà contemporanea e poi nei successivi video vedremo di approfondire meglio anche l'alfa, cioè una introduzione più sistematica e più ragionata al concetto di postmodernità e a perché questo costrutto ci pare particolarmente significativo per spiegare molti aspetti del disagio psichico contemporaneo. Il video di oggi prevede come agenda una introduzione che un po' a volo di uccello passa in rassegna alcune produzioni artistiche del passato che raffigurano in qualche maniera, in maniera molto specifica, il sentimento della morte di quei periodi per poi accennare a una serie di flash in ambito filosofico, psicoanalitico e sociologico, per passare poi alla parte più densa e più interessante forse di questo video che riguarda un po' un'analisi di come alcune serie televisive degli anni recenti hanno affrontato in maniera particolarmente originale, interessante e creativa il tema della morte, il grande tema della morte, restituendoci una prospettiva diversa rispetto a quella che sembra invece l'aspetto più caratteristico relativo a questo sentimento nella visione di massa, nella psiche collettiva, nell'età attuale. Iniziamo con le diapositive di cui mi avvarrò, le mettiamo subito in funzione. Ecco questo è il titolo del video di oggi e questa è la prima introduzione. Perdita e riparazione, lutto ed elaborazione rappresentano per ogni essere umano tappe inevitabili del proprio percorso esistenziale, nelle quali si attivano, con modalità e tempi differenti per ciascun individuo, capacità di trasformare il dolore e di assegnargli un senso e un'articolazione specifica con la propria visione del mondo. Passiamo alla prima rappresentazione artistica che io amo moltissimo, questo è il tuffatore di Pestum, una raffigurazione tombale del 480 a.C. che io trovo straordinariamente elegante, leggiatra, deliziosa, in questa sua anche modalità plastica e che raffigura questo tuffatore che dalle colonne d'Ercole, le mitiche pulai si getta nel mare della morte che rappresenta un'altra dimensione di conoscenza possibile e diversa da quella terrena. Le colonne d'Ercole naturalmente rappresentano i limiti della conoscenza umana e quindi questo concetto della morte come transito, come passaggio, come possibilità di accesso a una diversa dimensione dell'essere la trovo veramente straordinaria e molto suggestiva questa splendida raffigurazione. Passiamo invece a una rappresentazione ben diversa, ci sono 1800 anni di distanza e questo è il trionfo della morte della Chiesa dei Disciplini a Clusone, provincia di Bergamo. L'autore è Giacomo Borlone, questa raffigurazione del 1484 e vedete che dipinge una regina della morte estremamente potente e violente che sottomette tutti gli esseri umani e si avvale anche di alcuni servitori prezzolati che non esitano a scagliare frecce e tardi nei confronti dell'umanità intera. Dalle mani scheletriche di questa regina della morte si dipartono due cartigli in cui l'essenza del concetto è che la regina nella sua potenza piena di violenza non gradisce nessun tipo di regalo, di offerta, di sacrificio perché l'unica cosa che gli interessa è la vita delle persone di cui è intenzionata ad appropriarsi senza nessun ostacolo che si possa frapporre. E qui sentiamo cosa dice Freud in queste considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte. Ci dice Freud c'è in noi un'evidente tendenza a scartare la morte, a eliminarla dalla vita. Abbiamo messo a tacere il pensiero. Insistiamo in genere sulla causa accidentale della morte. Incidente, malattia, infezione, tarda età, rivelando così una tendenza ad abbassare la morte da fatto necessario a fatto casuale. È passato più di un secolo ma queste affermazioni di Freud sono estremamente attuali, questa tendenza nella nostra cultura a derubricare la morte come evento significativo e ineliminabile e ineccepibile della nostra vita. E qui passiamo a un altro grande del pensiero filosofico. Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione, è molto suggestivo questo frammento, lo trovo incisivo e straordinariamente interessante. Ad eccezione dell'uomo, dice Schopenhauer, nessun essere si meraviglia della propria esistenza. La meraviglia filosofica è viceversa condizionata da un più elevato sviluppo dell'intelligenza individuale. Tale condizione però non è certamente l'unica, ma è invece la condizione della morte insieme con la vista del dolore e della miseria della vita che ha senza dubbio dato l'impulso più forte alla riflessione filosofica e alle spiegazioni metafisiche del mondo. Se la nostra vita fosse senza fine, senza dolore, a nessuno forse verrebbe in mente di domandarsi perché il mondo esista e perché si è fatto proprio così, ma tutto ciò sarebbe odio. Schopenhauer quindi sembra dirci la morte è la precondizione perché gli esseri umani possono sviluppare un desiderio di conoscenza e di trascendenza. Se non ci fosse la morte noi saremmo degli idioti e saremmo portati a non chiederci nulla, a non interrogarci su niente. Ecco questo è il trionfo della morte del palazzo Abatellis dove è stato trasferito, proveniente dal palazzo Sclafani a Palermo, uno straordinario trionfo della morte alla quale si sono ispirati molti altri pittori e ne vedremo adesso uno insospettabilmente vicino a questo stile. Autore sconosciuto che viene denominato come il maestro del trionfo della morte e che raffigura questo raffinato giardino incantato, lussureggiante, in cui irrompe in un cavallo scheletrico una morte altrettanto violenta come quella della raffigurazione precedente della Chiesa dei Disciplini. Anch'essa scaglia dei dardi colpiscono nell'angolo in basso a destra questo cavaliere con questa veste blu scuro con i bordi giallo-dorati. Un dipinto che in realtà è un mondo, non raffigura soltanto la morte, raffigura un mondo. Guardate negli angoli, nei quattro angoli, quante situazioni diverse sono presenti. In basso a sinistra e lateralmente il gruppo dei poveri, dei diseredati, che quasi implorano la morte di porre fine alle loro sofferenze. Nella parte inferiore del dipinto possiamo notare coloro che già la morte ha appreso e muoiono ciascuno in un modo diverso e con un'espressione diversa, la morte in qualche maniera non è democratica ma è diversa, sembra raccontarci il pittore in base a come si è vissuto, quindi c'è anche un destino che accompagna l'uomo fino alla morte. Per poi spostarci verso la parte inferiore destra del dipinto dove abbiamo un gruppo di aristocratici che in qualche maniera rimane colpito dalla presenza di questi soggetti che già sono morti, che sono papi, imperatori, vescovi, ci sono poeti, dame, per poi spostarci invece verso la parte laterale destra dove invece ci sono altri signori ma del tutto indifferenti al problema degli altri che muoiono, che sembrano non accorgersi delle scene di morte che sono vicine a loro e addirittura nella parte superiore destra del dipinto, notiamo anche alcuni di loro che conversano amabilmente, sono musici, poeti, dame, cavalieri, alcuni di loro sono nei pressi di una fontana che raffigura in maniera evidente la fontana dell'eterna giovinezza, la fontana della vita. Quindi un quadro veramente straordinario al quale si sono ispirati molti altri pittori, tra cui anche insospettabilmente Peter Bruggele il vecchio, questo è un dipinto che ha 120 anni di vita in più rispetto a quello precedente del 1562, quindi è stato diciamo dipinto 120 anni dopo, eppure risulta da una fusione di stili, lo stile proprio del maestro del trionfo della morte, il quadro di Palazzo Abatelli di Palermo, con lo stile tipico della danza macabra, tradizione caratteristica dei paesi nordici. E anche questo è un mondo, nella sua complessità, nelle numerosissime scene particolari che va a delineare, che va a cesellare, una delle più significative avviene nell'angolo sinistro del dipinto, dove c'è l'imperatore al quale uno scheletro mostra una clessidra, come segnale del tempo che passa e dell'ineluttabile avanzare del destino della morte, mentre nei pressi lì vicino un altro scheletro con una lancia pesca all'interno di un marile pieno di monete d'oro, come a volere significare la vanità e la vacuità dei conseguimenti terreni, del desiderio di ricchezza, l'ambizione di successo. Ma tutto il dipinto è pieno e emana un'atmosfera sulfurea, infernale, di grande violenza e di grande tensione drammatica. E adesso qualche altro flash filosofico, partendo da Hans-George Gadamer, a Gadamer, filosofo tedesco, il maggiore rappresentante della scuola filosofica ermeneutica, dell'ermeneutica filosofica, Gadamer sottolineava la scomparsa nella società moderna dell'idea della morte, che è un po' il fil rouge che ci accompagnerà in queste considerazioni. Mentre nel 1950 un altro grande del pensiero filosofico e sociologico, Edgar Morin, il rappresentante forse principale del pensiero transdisciplinare, del pensiero complesso, insieme a Maturana e Varela, questo giovanotto di 99 anni, ancora vivente, che l'anno scorso ha stampato quattro libri e quest'anno, nonostante la pandemia del Covid, è riuscito a dare alle stampe uno straordinario libro che si occupa di un tema assolutamente attuale e significativo, che è quello della scuola e dell'educazione. Edgar Morin, dopo un'accurata ricerca filosofica e antropologica, evidenziava per suo conto come, nei confronti di quella che può essere considerata la più terribile fatalità biologica, sia il singolo che l'intera società, rimuovono un'idea della fine, evitando persino di pronunciarne la parola. Quindi andiamo configurando attraverso questi piccoli e brevi spunti filosofici tutta un'idea di come la morte progressivamente nella società moderna e postmoderna sia stata gradatamente espulsa dal pensiero, dalla coscienza, dalla riflessione, come vedremo fino anche dalla medicina. Pierre Chony è un filosofo storico francese, professore alla Sorbona, e ci dice, Pierre Chony, c'è capitata una curiosa avventura, abbiamo dimenticato che si deve morire. È ciò che gli storici concluderanno dopo aver esaminato l'insieme delle fonti scritte della nostra epoca. Una indagine sui centomila libri di saggistica usciti negli ultimi venti anni mostrerà che solo 200, quindi una percentuale minima dello 0,2%, affrontavano il tempo della morte, inclusi i libri di medicina. Una considerazione che fornisce ulteriore consistenza al percorso che stiamo cercando di sviluppare. E adesso un giornalista e saggista italiano Massimo Fini, molto noto, mentre mostriamo anche un'immagine dei cappuccini di Palermo, con questa rassegna di scheletri con i loro abiti che rappresentano un'attrazione turistica molto significativa, caratteristica anche di un certo tipo di modo di pensare, di rappresentare e raffigurare la morte, dice Massimo Fini, la nostra è la prima cultura moderna post-industriale che non ha elaborato una cultura della morte, che non ha un orientamento nei confronti della morte. La morte è semplicemente diventata indecente, è stata rimossa. E allora dobbiamo interrogarci sui motivi di questa rimozione, che vanno rintracciati tra gli altri nella fine della società agricola, dove la morte era un fatto sociale, si viveva a contatto con la morte, e dove la concezione ciclica del tempo faceva della morte un elemento di un ciclo cosmico. Il senso del ritorno adesso è stato sostituito con il tempo lineare e progressivo che guarda al futuro, seppure abbia la capacità di questa prospettiva in avanti, che non sempre oggi riusciamo a recuperare, e quindi al senso della vita collettiva si è sostituito quello della vita individuale, con la morte è divenuta anch'essa individuale e definitiva. La morte, assieme alla paura della malattia e della vecchiaia, procura oggi quel terrore che nessuna delle culture del passato ha mai avuto. Nelle società moderna e postmoderna, la morte ha finito per perdere le sue connotazioni di evento inserito nell'ordine naturale della vita, per essere progressivamente spulsa dalla pensabilità e rappresentabilità nell'ambito della propria dimensione interiore. Sembra allora che si possa affermare che a questa colossale rimozione della morte dalla psica individuale e collettiva abbia corrisposto una parossistica escalation della mediatizzazione e virtualizzazione della morte, che non più mentalizzabile, viene però iper rappresentata con grande insistenza sia nella fiction televisiva e cinematografica che nella raffigurazione quotidiana delle tante violenze estreme efferate o semplicemente insensate. Quindi ci avviciniamo alla parte della presentazione che riguarda un po' la rappresentazione attuale della morte nei media e soprattutto in questo particolare prodotto culturale che sono le serie televisive. Allora, mentre diventiamo sempre più distanti dalla morte naturale, familiarizziamo sempre di più con la morte mediatizzata nei confronti della quale siamo sempre più prossimi. più abbiamo difficoltà a rapportarci alla morte come evento che ci appartiene, più siamo propensi a farci attrarre dalla morte che non ci appartiene, come simulazione, spettacolo o raffigurazione di violenze e dolori reali, ma comunque in luoghi e contesti distanti dalla nostra vita e quindi emozionalmente fruibili, per così dire, e rapidamente archiviabili. Basta un colpo di telecomando e la morte viene allontanata e scacciata dalla nostra vita e dai nostri pensieri. Il complesso e articolato sistema dei media non si limita però solo a dare forma alla sensibilità di massa e quindi soltanto a riflettere i modi di sentire più caratteristici di un determinato periodo, ma spesso anticipa o segnala sul nascere variazioni salienti del modo di sentire, mutazioni significative dell'atmosfera culturale e dell'organizzazione affettiva e cognitiva dello psichismo collettivo. Quindi alcuni prodotti culturali dei media in qualche maniera intercettano dei cambiamenti di sentimento profondo in qualche maniera allo stato nascente. Sono in grado di anticipare alcuni sviluppi culturali e della sensibilità collettiva. Sembra allora di poter individuare in alcune recenti serie televisive che insieme ai film sono i prodotti mediatici che meglio colgono i trend culturali e le dinamiche di cambiamento sociale, riferimenti significativi ad un mutamento sostanziale nel modo di accostarsi alla morte e al lutto che potrebbero segnalare un tentativo di riproblematizzare la dimensione simbolica della morte e di risignificare i sentimenti di perdita e di lutto in una nuova visione spirituale fortemente collegata al sentimento postmoderno della vita, che è un po' il tema che ci accompagnerà in questi video che abbiamo dedicato alla cultura postmoderna e alla psicopatologia postmoderna. Allora perché proprio le serie televisive? Perché si tratta di un prodotto culturale tipico dell'epoca attuale, che ha nella serialità diacronica un elemento particolarmente caratterizzante che consente lo sviluppo discreto di una tematica e un suo approfondimento insieme con una definizione minuziosa dei personaggi, delle biografie, dei contesti, delle circostanze, delle premesse e delle conseguenze di certe azioni o situazioni. Evoluzione della specie televisiva del teleromanzo degli anni 60 e 70 e delle sue pop opere americane ancora precedenti. Le serie tv attuali, come certa parte della cinematografia contemporanea, ci offrono una preziosa lente attraverso la quale osservare direttamente come il mondo contemporaneo sta cambiando. Quindi sono una finestra privilegiata su cambiamenti significativi che oggi avvengono in maniera molto rapida, molto veloce, a un ritmo progressivamente crescente. Ecco, Twin Peaks, in qualche maniera la madre di tutte le serie televisive, questa straordinaria opera di David Lynch che ha fatto scuola perché ad essa si sono ispirate tantissime altre serie in maniera dichiarata o in maniera meno apparente, in maniera molto visibile, molto chiara o in maniera più nascosta. La storia di Lara Palmer e del suo omicidio sul quale si indaga con tutta la segna di personaggi strani, bizzarri, a volte comici, a volte drammatici, in un'atmosfera estremamente surreale in certi momenti, estremamente anche capace di suscitare sentimenti diversi nello spettatore. E Lost, su Lost ci fermeremo un poco perché in qualche maniera propone già in maniera molto diretta e molto evidente quello che abbiamo cercato di suggerire nelle slide precedenti. Quindi il recupero di un sentimento della morte diverso è rappresentato in maniera assolutamente originale con uno sviluppo e soprattutto una fine del tutto imprevedibile rispetto a come si era dipanato l'intreccio della trama narrativa. Se non avete visto Lost e se avete intenzione di vederlo, io adesso farò uno spoileraggio straordinario, quindi vi consiglio, se non volete conoscere la trama e soprattutto la fine, di togliere l'audio oppure di saltare di un minuto o due minuti il video e di andare avanti, evitando che io vi racconti la storia di Lost. Fiction squisitamente postmoderna. Lost cattura lo spettatore in una trama misteriosa e criptica di cui lascia in sospeso non pochi passaggi per rivelare solo nelle battute finali che tutta la storia successiva al disastro aereo dal quale inizia tutta la narrazione in un'isola misteriosa sconosciuta che sembra lontana da tutte le rotte e da tutti i transiti di tutti gli altri aerei possibili. Non è stato altro che un lungo e complesso commiato dalla vita, una approssimazione alla morte e all'aldilà che si svolge in una dimensione spazio-temporale altra, in una condizione di coscienza di margine allargata a tutti i presunti sopravvissuti all'incidente. Quindi il tema è la morte qui è recuperato in un modo assolutamente originale, tra l'altro con uno stile davvero che a tutti gli effetti può essere definito postmoderno perché non tutto viene perfettamente compreso nello sviluppo della narrazione, non tutti i tasselli del puzzle vengono messi al loro posto, ma nonostante questo noi veniamo catturati da una storia affascinante e coinvolgente piena di colpi di scena, piena di sorprese, piena di straordinarie suggestioni veramente estremamente accattivanti. Sopravvissuti a se stessi, i protagonisti di Lost dovranno affrontare in questa eccezionale epopea metafisica una serie di prove e di travagli che li prepareranno nella rivisitazione delle difficoltà e dei conflitti della loro esistenza al lutto della perdita della loro vita, estremamente originale, particolare e affascinante questa modalità. E quindi sia nella struttura narrativa fortemente caratterizzata da flashback, flash forward, flash present, flash sideways, sia nella costruzione di una complessa mitologia e di un ampio universo immaginale, Lost orienta l'attenzione e la sensibilità dello spettatore verso una dimensione enigmatica e non ordinaria che costringe una sorta di decentramento cognitivo e affettivo. E lasciamo da parte Lost per rivolgerci a una serie molto più recente, The Revenant, anche questa affascinante, anche questa con un'atmosfera assolutamente particolare e speciale che cattura sin dai primi fotogrammi lo spettatore, lo inchioda alla sedia e non lo fa muovere più nel tentativo di scoprire il più possibile di ciò che sta avvenendo. E ciò che sta avvenendo è una storia estremamente particolare che riporta, ma in maniera estremamente poetica, delicata, raffinata ed elegante, riporta il grande tema degli zombie. Siamo in un piccolo paese di montagna e alcune persone morte da qualche tempo ritornano in vita, conservando l'età e le sembianze che avevano al momento della morte, di cui non ricordano alcun che, quindi tornano in vita come se niente fosse successo e come se in realtà mancassero da pochi minuti o da poche ore, mentre qualcuno di loro è morto già da parecchi anni. E tra questi c'è Camille, un'adolescente morta in un incidente d'autobus, Simone, un giovane morto il giorno del suo matrimonio, Victor, un bambino che non parla e molti altri personaggi. I ritornati, per l'appunto le Revenant, cercano di tornare alle proprie vite come se nulla fosse successo, ma nel frattempo si verificano degli strani fenomeni. Si interrompe spesso la corrente, si abbassa il livello dell'acqua della diga del paese, appaiono strane ferite sui corpi dei vivi e dei morti. La serie è stata accolta con entusiasmo in quanto riprende il genere fantascientifico pur mantenendosi lontana sia dai precedenti cinematografici sia dalle classiche serie sui morti viventi. Molti hanno notato una certa somiglianza, come dicevamo, con le atmosfere angoscianti di Twin Peaks di David Lynch e abbiamo detto come Twin Peaks in qualche maniera è diventato un riferimento per tutta una serie di serie televisive che ne richiamano i contenuti anche soltanto in parte e le atmosfere. Ma rispetto a Twin Peaks, le Revenant propone un contatto col sovrannaturale insieme tenero e spaventoso, la dolcezza del ricongiungimento ma anche l'indecifrabilità di un perturbamento dell'ordine naturale e del limite tra la vita e la morte. E' questo che si chiede continuamente allo spettatore, come sia possibile che questa barriera che separa i vivi dai morti sia così permeabile, in qualche modo riportando al nostro pensiero, alla nostra considerazione alcuni dei passaggi più belli e più intensi e più profondi del mito greco, per esempio la storia di Orfeo ed Euridice. Allora, tra bisogno profondo di non finitezza dei legami e desiderio di ritrovare gli affetti scomparsi, la serie si sviluppa attorno a un insieme di potenti nuclei archetipici che riguardano non solo l'immortalità dell'amore e della vita dello spirito, ma anche le transizioni possibili tra mondo dei vivi e mondo dei defunti, di cui il mito di Orfeo ed Euridice per l'appunto ci offre una visione di sublime tragicità e poesia. E come a questo punto non avere in mente Alcesti, un altro straordinario e dolcissimo personaggio del mito greco che percorre due volte il tragitto dal regno dei morti a quello dei vivi. La prima volta lo percorre per un sacrificio, perché si immola in qualche maniera per salvare il marito. Admeto che è re di fere, re amato, ben voluto dai suoi sudditi, re di un regno dove tutto funziona bene, ma a un certo punto la disgrazia si abbatte sul re admeto nonostante sia buono, giusto e saggio, si ammala di quella che oggi potremmo definire una malattia incurabile, è solo che c'è una possibilità, una possibilità che Apollo ha donato in precedenza al re, dandogli la possibilità, qualora egli si fosse ammalato, che qualcuno potesse morire al suo posto. Apollo aveva fatto questa elargizione al re Admeto per sdebitarsi della sua grande ospitalità e della sua bellissima accoglienza quando Apollo era stato costretto da Zeus a espiare, per la colpa di avere ucciso i ciclopi, a espiare un periodo di punizione sulla terra. Admeto lo aveva accolto trattandolo da Dio, bisognerebbe proprio dire, e Apollo per ricambiare aveva offerto questa possibilità Admeto, qualora il re avesse dovuto morire qualcuno poteva prendere il suo posto e quindi salvarlo. Naturalmente quando Admeto si ammala per tutti è naturale pensare che possono essere i genitori a prendere il suo posto, gli anziani genitori, ma i genitori non sono per niente disposti e allora Alcesti in qualche maniera decide di prendere lei il posto del marito che così potrà continuare a svolgere le sue funzioni di re, potrà continuare a governare sul suo popolo e lei prenderà il suo posto e morirà. Ma come pochissime volte succede nel mito greco, ecco che la trama cambia, le condizioni non sono più le stesse, come se alla fine prevalesse un sentimento di compassione, di pietas. Ricordiamo che la pietas è un sentimento che il mondo classico ancora non conosce perché sarà un portato della sensibilità e della cultura cristiana, eppure a volte sembra che i dei greci in qualche maniera siano mossi a compassione e non siano estranei a questo sentimento profondo della pietas. E allora si dà la possibilità a Ercole, che nel frattempo era ospite del re Admeto a Fere, di scendere agli inferi e di compiere questa mission impossible di riportare Alcesti in vita. E questa storia è bellissima perché un atto di grande generosità, un atto di grande sacrificio, comporta il passaggio da un'equazione mors mea vita tua, mors tua vita mea, a un'equazione vita mea vita tua. Nessuno alla fine muore, la vita trionfa e quindi un atto di generosità e di grande donatività in qualche maniera moltiplica le energie e quindi potenzia la vitalità di tutti. Alla fine la morte è tenuta lontana. E questo è il riferimento al simposio di Platone. Soltanto quelli che amano vogliono morire per un altro, sia gli uomini che le donne. E Alcesti, figlia di Pelia, offre l'esempio perfetto di questa verità, poiché lei sola volle morire per il suo uomo che pure aveva padre e madre. Ma a tal punto essa li superò nel legame che nasce dall'amore che li fece apparire estranei al figlio e legati a lui solo dal nome. Compì quest'atto ed esso parve tanto bello non solo agli uomini ma anche agli dèi che costoro, sebbene abbiano concesso il privilegio di tornare in vita solo a pochissimi fra tutti gli uomini che fecero azioni mirabili, rimandarono alcesti dall'oltretomba alla luce, ammirati per il suo atto, poiché anche gli dèi onorano più di ogni altra virtù e gloria il bene che nasce dall'amore. Una storia bellissima, toccante, profonda, che non finisce mai di emozionarci e di coinvolgerci. Allora la forza dell'Eros è un'argine alla rovinosa e desertificante azione del lutto. Il mito sembra volere alludere alla necessità per chi sopravvive di continuare a coltivare la potenza del sentimento dell'amore anche quando l'oggetto di questo amore non è più in vita. Quel processo che chiamiamo l'elaborazione del lutto, la foticosa, difficile, impervia elaborazione del lutto. Quando il dolore intollerabile del lutto lentamente si attenua, solo l'amore ci può consentire di sopravvivere all'angoscia e alla desolazione della perdita. L'ultima serie che prenderemo in considerazione, Leftovers, i sopravvissuti, e quindi richiama già direttamente dal titolo il tema che vogliamo in qualche maniera approfondire. La sceneggiatura è tratta da un libro di Tom Perrotta, appunto, Svaniti nel nulla. Queste sono alcune immagini, alcune icone della serie. E questa è la trama, chi non l'avesse vista e chi si ripropone di vederla tolga l'audio e vada in avanti. Sposti il video qualche minuto avanti. Allora, un giorno, improvvisamente il 2% della popolazione mondiale, circa 140 milioni di persone, scompare in un solo istante. Alcuni si convincono che la terra sia stata colpita dal rapimento della chiesa, altri rifiutano di vederlo come un evento mistico, nessuno in realtà sa veramente cosa sia accaduto. La serie ha inizio tre anni dopo l'evento, seguendo le vicende della comunità di Mapleton, dove sono scomparsi nel nulla oltre 100 abitanti. Un evento di lutto simultaneo, globale, diffuso, destruttura e fremmenta la convivenza sociale. Stephen King ha affermato che la storia di Leftovers potrebbe essere una metafora di quanto successo nella società americana dopo l'11 settembre. Angoscia, senso di colpa, sofferenza morale dei sopravvissuti. L'interesse psicologico della serie è quello di verificare come una perdita così estesa possa attivare reazioni complesse e molto diversificate. È un'occasione per raccontare l'esperienza del lutto, della morte nella sua imprevedibilità e del senso di colpa del sopravvissuto. Ogni personaggio è perseguitato dalla scomparsa di una persona cara e dalla elaborazione di questa scomparsa, con un grande sentimento di dolore veramente profondo. Ma più ancora del lutto, più della perdita, più della scomparsa delle persone care, la serie ha sempre posto in interrogativo di come si elabora la presa di coscienza della insensatezza dell'esistenza. Di un evento che provoca un sovvertimento della prospettiva esistenziale, uno straniamento profondo è devastante. Quando un evento del genere dimostra la totale arbitrarietà dell'universo, quando la logica causa-effetto non funziona più, come si fa a tornare alla normalità? Questa è una domanda che ci poniamo molto anche in questo strano, per certi aspetti e per certi versi anche surreale, difficile da accettare nella sua consistenza violenta, il periodo della pandemia, il periodo del recupero, il periodo del cosiddetto ritorno alla normalità, che normalità non è quella che stiamo vivendo in questi giorni. Allora, come si recuperano i punti di riferimento di prima? Come incanaliamo la necessità di trovare un senso, di spiegare l'accaduto, di riordinare gli avvenimenti attraverso una logica che possa risultare accettabile, condivisibile? E la nostra impotenza di fronte a tutto questo potrebbe farci cadere in un nichilismo radicale. Allora, se la scienza non ha spiegazioni, se la fede vacilla, se non si trova nessun modo di comprendere un mistero inspiegabile, in che cosa si può continuare a credere? Come continuare a vivere nel mondo se il mondo diviene incomprensibile e nessun valore religioso o etico si dimostra di qualche utilità per chi è sopravvissuto? D'altronde, e stiamo per concludere, è questo che sembrano ricordare i colpevoli sopravvissuti nel loro assoluto nichilismo. Bisogna ricordarsi che non c'è un senso, ricordarsi che la testardaggine nel voler essere di più e nell'avere di più di quanto si possiede è la causa di tutto questo disastro, quindi bisogna smettere di sprecare il fiato. Questa frase ha un'attinenza con alcuni passaggi e con alcune scene della narrazione. E in questa totale arbitrarietà, in un universo in cui si può svanire da un momento all'altro, si può ritrovare un senso che non sia un senso di colpa? Il senso di colpa di Kevin, per esempio, a cui la vita perfetta prima del rapimento non bastava? Ho il senso di colpa di Nora, entrambi personaggi straordinari, che quel giorno avrebbe voluto avere di nuovo il controllo sul proprio futuro. Dove trovarlo allora questo senso? Può la vita bastare a dare un significato alla vita stessa? Questo sembra l'interrogativo che la serie ci lascia e anche io vi lascio con questo interrogativo e vi do appuntamento al prossimo video Psicopatologia Postmoderna 2.